Questa sera gli chef vi faranno provare tre tipi di pistacchi, quello campione del mondo che non poteva mancare poi proverete un tipo di pistacchio che è il pistacchio stigliano stigliano è una collina che si trova vicino a Matera dove si coltivano questi pistacchi particolari che hanno un sapore particolare poi vi faremo assaggiare un pistacchio che ho lavorato con degli aromi è un pistacchio aromatizzato ad infusione con del peperocino, peperosa e cardamomo e questi tre tipi di pistacchi sono stati adagiati su una marmellata di arancia e pistacchio poi mi farete sapere se mi sono piaciuto grazie a tutti